Andiamo verso il futuro perché chiaramente il partito si sta evolvendo, sta crescendo, ha bisogno di strutturarsi e quindi abbiamo deciso di procedere a tutta una nuova opera di radicazione nel territorio con la costituzione di nuovi circoli, di nuove rappresentanze e circoli comunali per poter meglio raggiungere tutta la popolazione della provincia di Arezzo. Un momento di dibattito e confronto con uno sguardo al presente ma anche al futuro del partito partendo appunto dalla presenza sul territorio. Sabato 11 novembre si è svolta ad Arezzo il congresso provinciale di Fratelli d'Italia AN finalizzato all'elezione dei delegati che assieme ai grandi elettori prenderanno parte al congresso nazionale di Trieste in programma per il prossimo 2 e 3 dicembre dove verranno eletti il Presidente nazionale e i membri dell'Assemblea. Le nostre stanzaritine sono fondamentalmente quelle di proseguire in una politica che venga incontro a quelle che sono le esigenze della gente quindi cercare di prima portare avanti le esigenze degli italiani e poi degli altri quantomeno con un criterio di residenza a livello locale come è stato fatto a Arezzo. Sicuramente cercare di arginare quello che è l'arrivo chiaramente di false rifugiati, in verità immigrati che arrivano clandestinamente nel nostro paese e chiaramente tutte quelle politiche che servono a una ripresa economica e soprattutto una ripresa di un lavoro stabile, non precario. Presenti sabato mattina anche i rappresentanti delle altre forze politiche di centro-destra. Siamo forze assolutamente alleate sia a livello locale lo saremo anche in vista delle prossime elezioni politiche insieme qui in Toscana abbiamo conseguito risultati insperati fino a qualche anno fa abbiamo vinto in tantissimi comuni fra cui Arezzo ed altri comuni della provincia d'Arezzo Montevarchi, Anghiari quindi è un rapporto ormai che viene da lontano e nel momento in cui un partito celebra il momento più alto cioè un congresso credo sia doveroso ma anche un piacere da parte delle forze alleate essere presenti per testimoniare con la propria presenza la vicinanza, il sostegno e la condivisione degli obiettivi più importanti cioè quelli sui quali si riesce a formare una coalizione che ha l'ambizione di governare non solo la dimensione locale ma anche dalle prossime elezioni anche il paese.